Allora, ci prendiamo un Luca Q. Musline, cioè sarebbe con olive, oppure quello che sembra prosciutto ma è cipolla. Prendiamo quella da cipolla o le olive? Cipolla. Cipolla, io vado a prendere la cipolla. Allora, and one with onion. I could just finish. Ah, finish. Ah, ok. Olive, spicy, cobriluca. Cobriluca, cobriluca. Ah, cobriluca, c'è questo qua? No, quello che io so non ho. Cobriluca, traditional. Traditional? Traditional è questa. Oppure con le olive c'è? Olive, olive, olive. One? One. Abbiamo comprato un Luca. Come si chiama? Si chiama Luca Q. Masline. Luca Q. Masline. Ah, questo è pieno. Ma così non è giusto. Io mi sono mangiato tutto il pane e tutti i panci il ripieno. Sì, certo, perché se ti ho fatto il pane. Eh, per questo mi ha fatto mastica prima. È proprio buono. Ci sono le olive e mozzarella. Si sente proprio... Si sente proprio la mozzarella con un buon sapore. Non so se bella la mozzarella, guarda. Il sabolo è quello.